Ciao ragazzi, io sono Stefano, magari alcuni di voi già mi conoscono perché sono iscritti all'altro mio canale dove tratto di produzione musicale, ossia Sunshine Records Home Recording al quale vi invito ad iscrivervi se siete degli appassionati di produzione musicale se volete imparare qualche chicca del mondo della produzione musicale ripeto, il canale è Sunshine Records Home Recording se volete iscrivervi all'altro canale ho voluto creare questo nuovo canale riguardante il mondo del guadagno online non tutti sanno che online è possibile guadagnare anche gratuitamente io praticamente mi sono avvicinato a questo mondo non da tantissimo da marzo del 2018 come praticamente da allora ho iniziato a scoprire il mondo criptovalute quindi Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Ripple, Dash e così via il mondo delle criptovalute è veramente, veramente, per quanti di voi si appassioneranno già lo conoscono, è un mondo veramente, veramente vasto ed affascinante io ho iniziato, così ho iniziato ad avvicinare questo mondo e poi pian piano, pian piano, pian piano, pian piano ho iniziato a fare le mie esperienze ho iniziato a conoscere varie situazioni tra cui anche, come dire, siti di guadagno online gratuiti come anche siti di investimento, piattaforme di investimento che pian piano, pian piano, vi andrò ad illustrare in questo mio nuovo canale che ho voluto chiamare Sunshine Money allora, io quindi vi invito a iscrivervi a questo mio nuovo canale e a attivare la campanellina per rimanere sempre, sempre aggiornati sui contenuti e sui video che man mano andrò a caricare su questo mio nuovo canale allora, questo è il mio primo video che vado a caricare che vado a fare magari in quanti mi seguiranno in quanti si iscriveranno sono magari già, come dire, esperti del mondo cripto esperti del mondo online o semplicemente curiosi o anche, perché no, alle prime armi la prima situazione il primo sito al quale volevo dedicare attenzione al quale volevo dedicare il mio primo tutorial è PopSpins PopSpins è un, come dire, è un sito assolutamente gratuito che sto usando da un po' di tempo un sito che mi piace e che voglio andare a presentarvi in questo mio primo tutorial allora, il sito è questo troverete il link per la registrazione per l'iscrizione sotto in descrizione una volta che avrete cliccato ripeto, sul link che vi metterò in descrizione vi si aprirà la pagina di iscrizione voi inserirete i vostri dati vi scriverete vi raccomando vi arriverà magari la mail di conferma che dovrete appunto andare a confermare e entrerete e sarete, come dire, abilitati a entrare nel vostro account una volta entrati nel vostro account avrete degli spin come dire, gratuiti all'inizio gli spin sono questi li potete trovare qui questi spin appunto ci danno la possibilità di, come dire girare una vera e propria slot machine a seconda delle combinazioni che verranno fuori questo sito ci pagherà ci accrediterà dei dollari dei centesimi di dollari una volta arrivati al prelievo minimo che è di 100 dollari prelievo minimo di 100 dollari avremo la possibilità di prelevarli sul nostro account Paypal come potete vedere Paypal si può prelevare da un minimo di 100 dollari a un massimo di 200 dollari poi ci sono anche altre piattaforme sul quale ci dà la possibilità di prelevare come Skrill Netler Webmoney o anche per quanti sono appassionati di criptovalute ci dà anche la possibilità di prelevare in Bitcoin quindi sul nostro wallet Bitcoin e in Litecoin è davvero secondo me un bellissimo sito molto molto interessante andiamo a vedere dicevo questa è una vera e propria come dire slot machine quindi con i nostri spin andiamo a cliccare appunto su spin qui come potete vedere gli spin man mano vanno a diminuire e a seconda delle combinazioni che verranno fuori ci verranno accreditati dei centesimi ecco adesso mi ha accreditato un centesimo perché mi sono venute fuori le due prugne e così via possiamo divertirci con questo bellissimo sito e guadagnare qualcosa ripeto alla soglia quando avremo raggiunto la soglia dei cento dollari potremo fare il nostro ritiro comodamente sul nostro account paypal o in sul nostro wallet bitcoin o litecoin come preferiamo un sito assolutamente assolutamente gratuito non ci chiede di investire assolutamente nulla se non un po' del nostro tempo qui abbiamo anche tutte le combinazioni vincenti eccole qui abbiamo tutte le combinazioni vincenti che questa slot ci mette a disposizione e così possiamo andare a diverterci con questa stupenda secondo me slot machine una volta finiti gli spin come si fanno a guadagnare gli spin allora praticamente c'è la possibilità di un claim che ci dà ogni volta 5 spin questo claim è possibile farlo ogni ora quindi noi io adesso ho 45 spin clicco sul claim ecco qui che mi ha dato gli altri 5 spin oppure ci sono anche altri modi per ottenere altri spin invitando amici invitando insomma facendo ma facendo rete o addirittura gli spin si possono minare con il nostro computer ecco qui per quanti di voi sono già esperti come dire conoscono già sanno cosa vuol dire il mining cosa vuol dire minare questi spin si possono anche appunto minare con il nostro computer basterà cliccare qui magari andare a come dire quanti core del nostro processore dedicare vogliamo dedicare al minaggio possiamo decidere qua a seconda della potenza del nostro processore qui andiamo a determinare la velocità di minaggio ovviamente più il nostro processore sarà potente più come dire più spin ci andrà a produrre a minare io magari vi consiglio di lasciarlo minare non so tutta la notte io in genere faccio così o lasciarlo minare insomma per un paio d'ore almeno così da darci degli spin come potete vedere a me adesso ne ha dato uno e così via così potremmo minare i nostri spin come vedete mi ha aggiunto uno spin poi c'è anche la possibilità di avere questo giochino per avere altri spin qua praticamente è appunto una sorta di giochino che funziona così andiamo a come dire giocarci a scommettere ecco dieci spin quindi giochiamo con dieci dei nostri spin dovremmo come dire trovare il percorso giusto a mano io ecco qui ho trovato i passi quindi per la prima volta per il primo step mi darà undici spin io posso accettare di avere gli undici spin o andare avanti fino alla fine se perdessi ovviamente perderei i miei spin scommessi io non voglio andare avanti mi prendo i miei undici spin faccio il cash out e mi ha dato e mi ha dato lo spin in più in più praticamente sì perché i dieci che avevo scommesso più uno mi ha dato uno spin in più poi c'è ci sono le casse del tesoro che praticamente a me non siano disponibili perché dice che c'è bisogno di arrivare almeno al primo livello per avere le casse del tesoro disponibili per fare questo bisogna appunto fare rete avere delle referenze c'è quest'altro gioco il bomb anche qui andiamo a scommettere degli spin e andiamo a decidere quale come dire quale cavo quale filo tagliare a seconda di quanti cavi andiamo ad indovinare ci darà una ricompensa se faremo esplodere la bomba perderemo i nostri dieci spin scommessi ok io ho indovinato il primo tentativo potrei andare avanti ma voglio fermarmi quindi mi darà il mio solito spin in più e sono a posto così qui come potete vedere ho il mio spin in più si possono completare anche delle offerte per avere degli spin aggiuntivi per quanti di voi sono bravi hanno pazienza a risolvere magari dei quiz magari dei sondaggi ci darà tutti questi spin quanti di voi magari vogliono tentare vogliono investire del tempo e così via ci accrediterà i relativi spin qui abbiamo la sezione coupon magari se avete dei coupon da riscattare la versione trivia praticamente è la sezione trivia praticamente è una sorta di appunto trivia è un quiz ci verranno fatte delle domande a scelte multiple con un timer delle domande a tempo e se noi risponderemo bene a queste domande man mano ci verranno accreditati degli spin e abbiamo anche la sezione lotto praticamente è una lotteria dove il jackpot è 200 spin è una lotteria come vedete chiusa massimo 50 partecipanti dove noi andremo a scommettere a scommettere degli spin ecco qui adesso ne ho aperto un'altra con massimo 35 partecipanti c'è su questa adesso un jackpot di 50 spin su un investimento su ci va il biglietto ecco buy ticket il biglietto per entrare a far parte di questa lotteria è di 2 spin e nel caso benissimo sorteggiati ci darà 50 spin queste sono le modalità per guadagnare spin quelle che uso io francamente sono quelle del claim e quelle del miner io lascio minare per 2-3 ore o tutta la notte e poi mi da abbastanza spin per andare avanti niente questo è pop spin che secondo me è un fantastico sito per iniziare a guadagnare dollari in modo assolutamente gratuito che ripeto possono essere riscattati su come vedete paypal una volta raggiunta la soglia minima dei 100 dollari o su altre piattaforme che sinceramente io non conosco o addirittura in bitcoin per quanti amano le crypto e in litecoin io ragazzi vi saluto questo è quanto questo è il mio primo video su sunshine money quindi sul guadagno online vi invito a iscrivervi vivamente al canale a mettere un like al video se è di vostro gradimento così da crescere insieme da farmi crescere io vi ringrazio vi rimando al prossimo video ciao e buon guadagno a tutti